Signori, colpo, bug star, era uno dei colpi che mancava, quest'oggi sarà una guida, volevo fare la guida come gli altri colpi tipo group sex e altre cose, ma ho detto, è venuto talmente bene, abbiamo fatto talmente tanti soldi, è stato abbastanza divertente, per cui ve lo spiegherò come se fosse la telecronica tipo gli altri colpi che abbiamo fatto. Quindi, le preparazioni sono sempre le stesse, niente di che, come tutti gli altri colpi, fate poi quelle bug star, vi darà anche young gun sesso se l'avete sbloccato, potete evitarlo, non è un problema, si tratta di andare adesso verso il casino, entrare dalla porta staff, ok? È molto complesso questo tipo di imbroglio, perché in verità non è un imbroglio, ma è stealth, cioè imbroglio nel senso che noi sì ci travestiamo, ma in verità è stealth perché noi non dobbiamo farci vedere, non abbiamo però armi silenziate, quindi non è semplicissimo. Il primo tipo di colpo simile sarà quello di young gun sesso che porterò nei prossimi giorni, in più vi ricordo che farò una guida su come andare a prendere l'elicottero per scappare, che non è il veicolo in incognito che molti pensano sia, solo perché nell'immagine ci ha mostrato un elicottero, non è quello. Sta a significare che gli elicotteri non vi possono vedere, che sono due cose completamente diverse. Allora, siamo Yulu Penetal in alto, come al solito, è, come vi dicevo, un colpo non semplicissimo, potrebbe non riuscirvi al primo colpo, ha, è un colpo che non vi riesce al primo colpo, ha, Rino, che simpatico. Quindi, passate da qua come backstar, entriamo, voi avrete accesso solo al, avete accesso, vedete qua riuscite ad entrare, potete arrivare solo fino all'ufficio, dall'ufficio in poi avete problemi, quindi passate. Ok, mi raccomando, ovviamente vedete che le guardie sono molto tranquille perché abbiamo fatto le spedizioni Duggan al massimo. Tenete nascoste le armi, ovviamente, come suggerisce la notifica in alto. Andate avanti, girate qua a destra sulle scale, molto bene, fin qua tutto semplice, direi, quindi andate avanti, andate avanti, non avete problemi. Quindi vedete i coni delle telecamere, ok, perché abbiamo la missione misura di sicurezza, quindi vi ricordo di, ecco, porta sbagliata. Passiamo di qua, molto bene, c'è sto tizio, uuuuh, che cartone, signori, che uppercart. Proseguiamo, anche quel tizio là non sa cosa gli sta per succedere, quindi il giovane amico, mamma mia, mamma mia. Raggiungi l'ufficio di Agatha, Agatha, andiamo. Ok, questa è la segreteria, poi, andiamo di qua, c'è l'ufficio, molto bene. Volevo hackerare io, ma Lupin fa, no, 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 fermi tutti. Hachero io che sono bravo, vabbè. Quindi aspettiamo che hackerà, perfetto, qua finito, ovviamente vi ho tagliato un attimo perché, vedere lui che si fa tutte le varie impronte, eccetera, un po' è una rottura di palle. Dunque, scendiamo al piano del cavo e qua diventa stealth, perché qua noi non dovremmo esserci, quindi fate fuori la prima guardia, ok? Dopo il che vi nascondete qua dietro. Allora, ci sono due telecamere più tre guardie, c'è la guardia là, ok? Ora, vedete che Lupin andrà a farlo. L'avevo fatto io nella prima volta che abbiamo provato, abbiamo provato sia io che Tarin alto, no, forse Tarin alto no, ho fallito miseramente, quindi a turno facevamo a giro. Per il compo di Uncestor sarà di una difficoltà, lo vedrete, un disastro. Comunque, dovete aspettare che le guardie, guardate la minimap, esatto, vedete quella guardia là in alto, dovete aspettare che le guardie di là facciano il giro e che la telecamera, vedete, abbia il cono girato in modo che non vi veda. Quindi, vedete che la guardia fa il giro, questa qua, poi l'altra se ne sta andando, molto bene. Da quando fanno il giro, vedete, Lupin parte, sta aspettando che la telecamera si levi, ok? È passato, è passato, è passato, guardate lì, passa dietro, colpo, mamma mia che cartone. Adesso noi andiamo dietro, vedete che passiamo tutti qua dietro con la telecamera, molto bene. Tarinato mi sta seguendo, Tarinato ha fatto l'altro giro invece, solo io sono l'unico stronzo che è passato qua dietro. Quindi potete passare sia dietro che andare vicino direttamente al bancone e fin qua siamo a posto. Quindi evitate il tizio qua a lato, nel gabbiotto, mi raccomando. Passate con le carte, ok, classiche carte, area di contenimento, perfetto. Siamo arrivati al cavo, qua non c'è nessuno, si tratta di trapanare, si tratta di trapanare. Vedete, piccolo taglio, ho cominciato a trapanare io con laser molto più semplice, col trapano normale. Non so perché, sono riuscito a farlo le prime volte, le altre volte no, ero disperato. Ho detto, raga, per favore, fate voi. Infatti vedete che l'altra parte era già stata trapanata. Io ho piegato talmente tanto che Tarinato aveva già finito. Quindi non bene per me la parte del trapano. Dunque, entriamo. Entriamo, entriamo, entriamo. Guardate che si è buggato tra l'altro. Vedete che escono ancora le particelle. Vedete che si è buggato il trapano, non ci posso credere. Comunque siamo dentro, abbiamo i lingottoni. Ok, abbiamo i lingottoni, ce li prendiamo, mi raccomando coordinati. Vi faccio vedere tutto perché ce ne andiamo a casa con un bottino niente male. Quindi, loro hackerano per quanto riguarda, vedete, dovrebbe esserci Lupin che è su C, Tarinato è su E e F. Ok. Quindi, tutti i vari lingottoni che è bello che è prendere i lingotti, ragazzi. Vi ricordo, se i lingotti, i quadri, eccetera, sono casuali. Se non vi piace il vostro bottino, dovete annullare il colpo. Poi, vado su B. Dopodiché, probabilmente, andrò su... Non mi ricordo se andrò su G o EF. Comunque, prendere i lingotti è la cosa più bella che ci sono. Sono veramente belli questi lingottoni. Veramente belli. Stiamo aspettando di capire per i diamanti, anche se ancora non si sa niente. C'è qualche video su YouTube, l'avete visto, ma nessun altro ha diamanti. Insomma, il che è molto improbabile che in tutto il mondo solo un tizio abbia diamanti. Probabilmente si tratta di una mod di contenuti non rilasciati. Insomma, è pieno. Gente che va in giro con le macchine non rilasciate e quant'altro. Quindi, proseguiamo. Altre lingottoni. Siamo per ora a un milione e cento, eh. Niente di trascendentale. Niente di trascendentale. Però, insomma. Che tra l'altro, che bello che è il completo Buckstar. Il completo Buckstar è veramente bello. E poi i borsoni cambiano. Se avete fatto caso che ci sono i borsoni della Buckstar. Vedrete poi i borsoni di Young Ancestor. Ci sono poi i borsoni quelli classici mimetici. Insomma, hanno messo un po' di borsoni diversi. Non ci avevo mai fatto caso, ma dopo un po' alla lunga, facendo tanti colpi tutti di fila. Ho detto, cazzo, io questo borsone non ce l'avevo. Comunque, siamo in modalità difficile. Quindi, devo acchierare due impronte digitali. Vi ricordo che la modalità difficile non la scegliete voi. Ma dipende... È la seconda volta che fate lo stesso colpo. Quindi, fate aggressivo. Poi fate un'altra volta il colpo. Non potete più fare aggressivo perché è bloccato. Fate uno degli altri due. Al terzo giro avete bloccato l'altro che avete scelto. E aggressivo sarà difficile. Molto semplice, ok? Siamo già a 2 milioni e 5. Quindi, abbiamo 1 milione e 5. 2 milioni e 5, scusatemi. Abbiamo ancora un minuto abbondante. Io prendo l'ultimo giro di lingotti. L'ultimo giro di lingottoni, che valga un tipo 20.000 lingotto. Gli altri stanno prendendo le casse di sicurezza, le cassette. Vedete che c'è il rosso dietro di me su A1, B1, B2. Quindi, quelle sono le cassette di sicurezza. Voi pensate che sia finito qua il colpo Bugstar, ma in realtà no. Perché le parti più difficili del colpo Bugstar sono a livello del cavo quando entrate e a livello del cavo quando uscite. Mi raccomando, non ve l'ho portato questo video come tutorial, tra virgolette. Sto andando alla parte sbagliata. Reno? Parte sbagliata? Ok. Non ve l'ho portato proprio come tutorial, tutorial, tutorial. Ah, vedete che si è buggato, guardate. Vedete, sembra che stiamo ancora trapanando. E niente, quindi ve l'ho portato un po' così commentato perché valeva la pena farvelo vedere come se fosse effettivamente un colpo fatto e finito. Anziché spiegarvelo e basta perché ne vale la pena. Perché ne vale veramente la pena. È stato veramente un bel colpo. Soprattutto per i 2.904.000. Quando abbiamo fatto questo bottino abbiamo letto, ho pensato, no, 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 a questo colpo volevo portarlo perché 2.9.000 di Bugstar, mamma mia. Non so quanti siano riusciti a farlo perché molto probabilmente ci si fa scoprire di solito con la Bugstar. Quindi è molto semplice farsi scoprire per cui si riduce il tempo e si riduce spesso e volentieri il bottino. Si vede in fondo il cavo, siamo quasi arrivati, sì, il cavo, si vede in fondo l'uscita del cavo. Vedete che ci sono ancora le guardie, non le abbiamo messe fuori gioco tutte prima, quindi fanno ancora il loro giro. C'è quello del gabbiotto, Tarinalto ha particolare voglia di... ha rischiato perché è incredibile come non lo veda. Guardate, ve lo faccio proprio vedere perché, insomma, è una cosa ridicola. Va dietro, bam, bel cartone in faccia. Così, l'ha fatto per sfogo. Io per sbaglio tiro fuori l'arma, ho rischiato tantissimo. Ora, qua dovete andare dritti, mi raccomando, quindi avete semplicemente le guardie là in fondo e questa telecamera. Questa telecamera, vedete, punta qua. Voi riuscite a passare, forse anche potreste passare... esatto, vedete che si sta spostando sulla minimappa. Voi andate, andate, andate. Vi fermate qua un attimo. In realtà potreste già passare sulla destra, non è un problema. E poi andate dritto. Tarinalto ha fatto tutt'altro giro, ma va bene così. Poi c'è un'altra... c'è un'altra telecamera qua. Ok, io sto aspettando per sicurezza. Semplicemente ho deciso di rallentare per farvi vedere tutto. Mentre ho deciso di rallentare, Lupin ha pensato bene di far fuori tutte le varie guardie. Quindi dovrete sicuramente far fuori le altre due guardie, ok? Una alla volta. C'è un'altra telecamera qua in alto. Quindi con tutta la calma del mondo, vedete, passate. Passate, passate, passate. Vi sistemate sotto. Non preoccupatevi per le 5 stelle, ok? Sembra che vi hanno beccato. È sempre la solita solfa. Cioè, sanno che il casino è stato rapinato, stanno cercando qualcuno, ma non sanno che siete voi. Però ogni volta viene sempre l'ansia perché, vedete, cominciate a vedere le stelle, tutto rosso e blu. E quindi sembra che vi abbiano beccato. In realtà non è così. Allora, c'è una guardia qua che deve passare. Controllate la minimappa. Vedete che sta passando. Sta passando. Lo vedete passare anche dalla porta. 3, 2, 1. Eccolo lì. Passate dietro. Boom. Ok. Poi andate qua a destra. C'è un'altra guardia che deve passare. Questa qua l'abbiamo già vista. Ok? Con la group 6, forse. Quindi qua passa un'altra guardia. Qua va Lupin. Ci tiene particolarmente lui a fare le uccisioni stealth. Poi c'è l'altra guardia là in fondo. Mi raccomando, non fatevi vedere. Tra in alto corre da morire. Corre anche Lupin. La guardia si gira. Teoricamente dovrebbe vederci una persona normale, ma non su GTA. Il borsone bianco che vedete sono le armi. Ok? Quindi là ci sono delle armi opposte. C'è tipo la mitraglietta, se non mi sbaglio. E io non l'ho presa, giustamente. Mi sono cambiato da pezzo grosso. Se vi ricordate questo è il vestito che si sblocca con le 54 carte. Io, il borsone. Guardate come evito il borsone. Incredibile. Non me ne sono neanche accorto. Quindi, se passate in quel borsone avete delle armi migliori. Scusate, mi stavo soffocando da solo, praticamente. Non so come mai. Usciamo, anziché dall'ingresso principale, usciamo da qua. Ok? Per evitare di essere visti circa subito. Passate poi, vi sto tagliando un attimo. Passate poi per la pista dei cavalli. Ok? Molto bella e nevata. Avete qua vicino le vostre Sentinels. Avete preso le Sentinels, giustamente. Avete qua le vostre auto. Quindi, andate. Noi per questo colpo decidiamo di scappare con l'elicottero. Di cui, come vi ho detto, vi farò poi un video a parte. Perché merita un video a parte. E, ok. Stiamo andando a prendere l'elicottero. Di cui vi farò vedere poi come si sa nel dettaglio. Dov'è precisamente. Come arrivarci, possibilmente senza farsi sgamare, eccetera, eccetera. Quindi salite. Prima persona, per sicurezza. No, non adesso. Al prossimo giro. Ok? Ah, giustamente vedo così perché ho sugli occhiali. Poi, qua c'è l'elicottero. Salite. E siamo circa a posto. Solo che, non benissimo l'elicottero. Già fuma. Perché il buon Lupin ha pensato bene già di romperlo. Infatti vedete che già fuma. E va bene. Comunque adesso bisogna semplicemente andare verso l'acquirente. Classico acquirente professionista. Quindi paga, paga, paga. Molto bene. Vedete il fumo che esce. Io cerco di sparare in qualche modo. Ma con la pistoletta di ceramica. Cosa vuoi fare con una pistola di ceramica? Non puoi fare niente, Reno. Ma smettila. Infatti non ho fatto assolutamente alcun danno. Siamo usciti con 2.889.000, più o meno. Comunque vale come 2.09.000. Qua abbiamo problemi con l'elicottero. Quindi ordine del capitano di buttarsi giù. E ci vediamo dall'acquirente, praticamente. Però abbiamo un bellissimo paracadute arcobaleno. E la cosa mi piace tanto. Io sto andando verso il tunnel del Mount Ciliad. Trovo la polizia lì davanti. Riesco a evitarla, ma non riesco a evitare. Boom. Finito il sogno. La polizia mi trova. L'ammazzo. Vi ho risparmiato questo pezzo. Gli rubo la macchina. Quindi è la fuga più teatrale, più cinematografica che io abbia mai fatto su un colpo. Perché non è finita. Non è finita, signori. Adesso con la macchina scappo. E vado fuori. Mi trova... Guardate la polizia. Quindi mi devo nascondere dalla polizia. E mi metto in un fosso, giustamente. Perché non si sta sulla strada principale. Quindi... Giù bene in un fosso. Bravo Reno. Ok. Vi ho saltato la parte in cui perde la polizia perché sono rimasto tipo un minuto fermo. Qua c'è della gente che cammina con i pantaloncini, con la neve. Sembra che vada tutto bene. Ci blocchiamo con la macchina. Finito il sogno, signori. Finito il sogno. Quindi si scende. Talenalto è già in giro. Lupin mi abbandona. Quindi ce ne andiamo. Serve un nuovo veicolo. Abbiamo trovato una station wagon. Ma non fa... Non fa molto film. Per cui... Vado per un altro veicolo in questo caso. Vedete che belli intanto i... I log qua della segheria. E vado per... Uh! C'è un camion! Talenalto in questo momento... Mi manda una diffida. Non prendere il camion per fuori. Non prendere il camion. Camion preso. Camion preso. Non ho potuto aspettare. Andiamo dall'acquirente. Ed è fatta. Signori, direi che da Reno per questo video è veramente tutto. Se avete bisogno scrivetemi nei commenti. Noi ci vediamo in live. O ai prossimi video. Dai raga. 3, 2, 1. Aloha! Noi. Noi. Noi.